Ma io su questo ho un'opinione distanziente o quantomeno dubitante, per una serie di ragioni. Intanto, di che cosa stiamo parlando? Dell'introduzione di un nuovo reato su un corpaccione di un ordinamento giuridico che ne ha già 35 mila. Questa è la cifra che viene... Allora io mi chiedo se aggiungere reati aumenti la sicurezza collettiva e invece la metta maggiormente a repentaglio. Che tipo di reato sarebbe poi? Perché noi abbiamo già la legge scelva del 52 che castiga l'apologia di fascismo, ma solo se collegata, se strumentale, alla ricostituzione, alla riorganizzazione del partito fascista. In questo senso quella legge lì è servente a una disposizione finale della Costituzione che vieta di... Vietata sotto qualsiasi forma la ricostruzione del partito fascista. Mentre qua si tratterebbe invece di vietare Tukur, l'esibizione di simboli fascisti, di... Ora... Facciamo un esempio, no? Se uno vende quelle famigerate bottiglie, grottesche dal mio punto di vista, bottiglie di vino con le figie di Mussolini... Ecco, appunto, il vino Dux. Quella è... In Toscana direbbero l'ena bischerata. Però, in base a questa... Qualora questa legge diventasse... Questo decennio di legge diventasse legge, la bischerata sarebbe sanzionale? Cioè, chi vende quel vino Dux finirebbe in galera o...? Magari un giudice decide di sì e un altro decide di no. Perché poi un'altra dei corollari di tutta questa corsa alle manette, scoppia un caso di pedofilia, oddio, aumentiamo per i pedofili e via via, è quello di, in realtà, di consegnare la nostra libertà, alla discrezionalità interpretativa dei giudici, che a sua volta cresce di molto quando l'ordinamento è sovraffollato di norme e di reati. Io poi, personalmente, insomma, non ho molta insimpatia ai reati di pura opinione. Questo non vuol dire che le parole siano innocue e abbiano un... come sia, un salvacondotto, perché le parole possono far male, possono contenere un principio di azione, possono contenere una istigazione a delinquere, come nel caso di questo signore che voleva... cos'è, fucilare i tossici o mandare... Eliminare i costi, eliminare i costi, eliminare i costi. Allora, questo non è ammissivo. La domanda è, appunto, il rapporto con la memoria, il rapporto con l'autocontrollo, con la tolleranza, con il tasso di liberalità della nostra società e la domanda, una delle domande è ma ha senso ancora l'antifascismo, non essendoci più il fascismo, perché non trovo camicie nere al Palazzo Chigi o dove. Probabilmente sì, se antifascismo significa opporsi alla prepotenza, alla violenza, all'azione coercitiva di qualcuno che... però ci può essere anche una prepotenza della maggioranza, no? E la libertà di parola a chi interessa, chi protegge, protegge le minoranze, non protegge la maggioranza, si protegge la sera, non ha bisogno di ombrelli costituzionali. E quando io, come dire, castigo alcune parole, perché sono eretiche, sono controcorrente, sono... in realtà sto commettendo un gesto, tra virgolette, fascista, no? In nome dell'antifascismo posso pure diventare, diciamo, nei comportamenti un po' fascista anch'io. Quindi io credo che questa storia abbia poi alimentato tutto l'interesse che ha alimentato, proprio perché ci porta davanti, ci squaterna una serie di questioni che noi abbiamo un po' lasciato così, da una parte del tavolo. E una delle questioni principali è quanta libertà di parola possiamo riconoscere. A differenza degli americani che permettono di bruciare la bandiera, che hanno vissuto dei famosi casi giudiziari, uno di questi, lo ricordavo in questo articolo di stamattina, riguardò il partito neonazista americano che negli anni 70 chiese il permesso di sfilare il corteo a Scucchi, che è un soborgo di Chicago, all'epoca abitato da 40.000 ebrei, che erano quasi tutti ex deportati. Caso giudiziario, la corte di Rino, poi alla fine la pronuncia definitiva dicebbe che quelli il diritto di manifestare ce l'avevano. No, vabbè, noi forse abbiamo anche un'identità fragile, perché se tu sei sicuro della tua identità, delle tue matrici culturali e anche hai sufficiente padronanza della tua storia, non hai paura di quello che ha l'orecchio e ti blatano.